Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo a Rio nell'Elba e questa è la chiesa parrocchiale dove abbiamo un concerto di quattro campane e adesso riprenderemo l'Angelus del Mezzogiorno con una campana di spesa, si spera, a presto! Eccola, quella dietro, no! Eccola, quella dietro, no! Eccola, quella dietro, no!